Non è proprio doppia coppia, doppia coppia, eh? In che senso? Fa i rutti? Uno c'ha la soluzione davanti agli occhi e non se ne avvede. Portiamo fuori uno che fa i rutti? In che senso? Nel senso che c'è una loro amica. Cioè bisogna trovare uno che fa i rutti?